Oggi in Gazzetta Ufficiale esce il Maxi Concorso per i docenti, i docenti non sono particolarmente soddisfatti, il PID da che parte sta? Il Partito Democratico sta sempre con la scuola pubblica e con chi lavora da anni nel mondo della scuola. Purtroppo si sono assommate una serie di errori che hanno reso drammatica la situazione di chi lavora in condizioni di precarietà nelle scuole del Paese. Questo concorso è stato ammantato da un'ideologia della meritocrazia che poco ha a che vedere con la realtà dei fatti. Nel concreto sarà una doppia possibilità data agli insegnanti abilitati. La cosa che crediamo sia importante in questo momento è di prevedere un nuovo piano di stabilizzazioni per gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento. Crediamo che sia importante come il PID ha già chiesto più volte di offrire la possibilità a chi maturava i criteri della riforma Fornero ad agosto di poter andare in pensione prima di quei criteri per le particolarità del contratto scuola. e crediamo davvero che la scuola abbia bisogno di stabilità.